Posso parlare io? Ho conosciuto questa ragazza sulla chat, su Instagram. Venne un amico in comune in radio e fece una foto e la postò. Disse, guarda, io non la posso pubblicare, pubblicala tu, Max, non c'è problema. Mi arrivò la sua richiesta. Io so bene chi è questa persona, lei non lo sa che io lo so. Però va bene. Che sarei? Quindi sì, è vero, ci sono stati messaggi, ora può sembrare una scusa, ma io volevo vedere lei dove volesse arrivare scrivendomi, rispondendomi, perché lei stava a Londra. Il primo messaggio l'hai scritto tu a me, non ti ho mai permesso di scriverti. Allora, io ci metto la faccia e non nego niente. Ah sì, appunto, anche io. Però, io lo sapevo che veniva qua. Allora, io lo sapevo che veniva qua. Grazie a tutti.